Lo scorso 15 novembre Vodafone e HTC hanno annunciato l'inizio di una partnership che porterà l'operatore telefonico ad offrire una serie di terminali della compagnia taiwanese in esclusiva per il mercato italiano. Tra le prime soluzioni vincolate da questo accordo troviamo HTC Explorer, entry lever equipaggiato con sistema operativo Android. HTC Explorer è un terminale di fascia medio-bassa che porta in dote il sistema operativo mobile di Google nella sua ultima versione per soli smartphone, ovvero Gingerbread, aggiornato alla release 2.3.5. Il processore in dote è un single core di produzione Qualcomm operante alla frequenza massimo di 600 MHz, coadiuvato da 512 MB di memoria RAM. La memoria dedicata allo storage ammonta invece a qualche centinaio di MB ma può essere espansa tramite schede microSD fino a 32 GB. Una delle particolarità che contraddistinguono un nuovo HTC Explorer è sicuramente l'integrazione nativa, in una delle home screen, del widget Vodafone Discover, l'applicazione che permette ai clienti Vodafone di ottenere informazioni dettagliate sul proprio traffico, sul credito residuo, sul saldo punti Vodafone U e sulle nuove promozioni e offerte dedicate. Non solo, l'integrazione con il mondo Vodafone continua anche all'interno dei menu, dove troviamo alcune applicazioni specificatamente create da Vodafone per i propri clienti, che comprendono My190, Vodafone Calcio, Vodafone Music e Find&Go. Nel complesso possiamo dire che si tratta di un terminale adatto a un'utenza non troppo esigente, che vuole entrare nel mondo smartphone ma che non esige prestazioni di livello assoluto. Nonostante la dotazione hardware non certo di ultima generazione, tuttavia il telefono sembra rispondere molto bene, con una fluidità che difficilmente ci saremmo aspettati su un terminale Android di questa fascia. Il prezzo della soluzione è sicuramente interessante, Vodafone offre infatti HTC Explorer a un prezzo di listino di 199€ IVA inclusa, prezzo che successivamente al periodo natalizio potrebbe ulteriormente calare, rendendo Explorer ancora più appetibile, considerato anche il valore del marchio. Grazie mille. 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 Grazie.